salve dagro palati oggi queste bellissime frittelle preparate con i fiori di sampuco da noi le chiamiamo maiatelle credo che maiatelle voglia dire maggio mese di maggio quindi nel mese di maggio fiori di maio sono buonissime si preparano con delle uova della farina un pizzico di sale un po di sale chiaramente un po di pepe macinato fresco se volete e poi si friggono a pastella nell'olio bollente in questo caso di girasole diciamo per 300 grammi di farina vanno ben anche tre uova e anche diciamo un quarto di acqua poi questa cosa la dovete sempre regolare a seconda di come volete fare poi le vostre frittelle sono molto profumate si preparano anche le pitticelle con i fiori di maggio infornata al forno a legna sono anche una delizia anche quella queste sono le sbavature io prendo tutto le sbavature che escono fuori vengono raccolte una bella una bella birra fresca anzi ne mettiamo un po di più queste congelata si potrebbe dire e gustiamo un paio di queste qua non di più che sono veramente molto profumate e molto interessanti io sono non sono proprio le mie preferite io al secondo posto metto queste qua le mie preferite sono quelle con i fiori di zucca o di zucchine che sono le migliori in assoluto queste le metto al secondo posto ma sono veramente anche molto molto interessanti